dai samanta dai samanta dai pronti via dai samanta dai samanta dai 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 signorina ma come si fa? con una mano come fai? la faccio con una mano la faccio con una mano vieni 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 brava samanta peccata che cosa ha vinto? si chiama Maria Chiara come si fa? 13 23 tre piccoli o uno di questi qua come tre piccoli? ho tre piccoli o uno di questi qua tre piccoli che sono tre allora quanta cosa c'è? la margherita il tato la pila questo che suona questo? ma quelle sono da maschi le maschi è tre da femmine cosa vuoi? tre da femmine cosa vuoi? cosa vuoi? la margherita la pila tre da femmine la coccinella africana e i vitri africani dai questa è Giulia l'autopopicino non c'è 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 contente? non c'è non c'è ti piace Giulia? non c'è